Che cosa ha? Ti parti! Oh, appena andai dove siamo bloccati! Ci penso io! Tu intanto tieni acceso il motore, arrivo subito! Davide, dove vai? Che cosa vuoi fare? Davide, scuola, io ho un poliziotto a essere un tipo che con ora il suo lavoro. E non li cittadini, e la bustecca, e la vantaggia dei carciofi. Io non li mangerei mai! Oh, saldo, mamma! Allora, c'è Ciancio! Maggio di Ciancio! È dura! È l'ora, amici di Valpera, lasciala a terra! E mi scopo, come parla? Anzi, mi sta brontolando! Siamo invenuti, non la parla di giro, 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 non la parla di giro. E' un po' bene. Agazze, prego, smettete di averla a testa tra le nuve e mi metterà nell'acqua dove deve stare.